buongiorno ragazzi ecco un nuovo appuntamento video per voi con una lettura introduttiva a un'opera importante significativa di dante il de monarchia in latino monarchia la monarchia in traduzione italiana un'opera importante scritta presumibilmente intorno al 1310 all'epoca della discesa dell'imperatore arvigo settimo d'asburgo in italia discesa che come vedremo nel proseguo del video suscitò grandi speranze ma fu anche portatrice di una grande delusione nel nostro amico dante dunque cominciamo a parlare e cominciamo a vedere le caratteristiche di quest'opera partendo da il contesto dunque il contesto in cui viene redatta quest'opera è un contesto storico particolarmente significativo intanto bisogna dire una cosa non è un'opera soltanto teorica soltanto speculativa è un'opera che viene scritta proprio nell'urgenza della contemporaneità perché dante spinto a prendere posizione rispetto a quello che stava accadendo nell'epoca sua quindi è un'opera tra l'altro conclusa a differenza del convivio e del de vulgari eloquenzia proprio perché tante la scrive la conclude sotto l'impeto sotto la spinta della passione politica una passione politica che si accendeva a contatto con i fatti della contemporaneità con i fatti della politica contemporanea a dante quindi questo è importante dobbiamo dire una cosa dobbiamo dire che nei primi anni del 300 era ormai chiara la profonda decadenza delle due grandi istituzioni universali del medioevo cioè l'impero e il papato che si erano logorate in una lunga lotta che era durata secoli fra di loro per stabilire chi fra loro dovesse avere la supremazia in questa condizione di indebolimento delle due grandi istituzioni secondo dante risiede una ragione importante la più importante della corruzione della decadenza in cui dante vede agitarsi l'epoca sua però era effettivamente una condizione reale perché le due grandi istituzioni universali in quel periodo stavano appunto in qualche misura decadendo indebolendosi reciprocamente e stavano cominciando ad emergere gli stati nazionali praticamente poteri locali che rosicchiavano autorità e prerogative alla all'impero appunto da una parte e al papato dall'altra ma questo lo studierete meglio all'insegnante di storia quindi non mi diffondo più su questo argomento nel 1310 come stavamo dicendo arrivo settimo decide di scendere in italia che comunque era parte dell'impero decide di scendere in italia diciamo per sistemare le faccende in italia per vedere in qualche modo di mettere un freno alle contese e alle alle lotte che insanguinavano l'italia in quel periodo sia fra comune e comune sia all'interno dei singoli comuni come per esempio succedeva a firenze fra ghibellini e guelfi guelfi bianchi guelfi neri vicende che sapete avevano riguardato profondamente anche la storia biografica di dante arrivo settimo discende nel tentativo di mettere ordine con l'intento di farsi incoronare ufficialmente a roma come era tradizione d'accordo perché in qualche modo il sacro romano impero si presentava come erede dell'impero romano purtroppo il tentativo di arrivo settimo che suscitò grandissime speranze in dante era destinata a naufragare perché arrivo settimo nel corso del suo viaggio si ammalò si ammalò di febbri e morì a buon convento vicino a siena fra l'altro la tomba di arrivo settimo si trova nel duomo di pisa quindi se vi capita andate a vederla è un monumento che vale la pena di di vedere è a pisa quindi vicino vicino a noi quindi sono questi gli elementi che spingono dante a intervenire d'accordo un contesto storico particolarmente travagliato possiamo dire questa decadenza delle due grandi istituzioni universali tutte le forze centrifughe che in qualche modo riguardavano la storia del periodo e infine la grande speranza che aveva suscitato in lui la discesa in italia appunto di arrivo settimo andiamo avanti vediamo la struttura del del de monarchia è un'opera organica è un'opera conclusa è un'opera nella quale dante esplica in maniera chiara secondo la tecnica del ragionamento medievale che si chiama sillogismo e che è legato alla filosofia di aristotele sapete che aristotele era nel medioevo considerato il filosofo per definizione per antonomasia come si dice come si dice meglio quindi un'opera conclusa organica a differenza del convivio a differenza del devulcare eloquenza che come sapete rimangono interrotte è un'opera in tre libri scritta in latino ovviamente perché scritta in latino perché dante qui non si rivolge al al popolo e anche alle persone sufficientemente colte che facevano parte della borghesia comunale che sono gli stessi interlocutori che lui sceglie per il convivio dante qui si rivolge ad un pubblico specialistico al pubblico dei dotti al pubblico di coloro che stavano pubblicando sempre in latino una serie di trattati che cercavano in qualche modo di individuare le fondamenta teoriche del potere dell'impero del potere del papato quindi è un'opera di un filosofo diciamo così che si rivolge ad altri filosofi e la filosofia all'epoca si trattava in latino perché in qualche misura il latino era sicuramente la lingua della cultura universale della cultura europea un po come oggi potrebbe esserlo l'inglese per esempio che la lingua la lingua della scienza quindi dante sceglie di scriverla in latino per dargli appunto questa caratterizzazione universale e al tempo stesso per rivolgersi quindi ad un pubblico estremamente selezionato è suddivisa in tre libri nel primo libro dante tratta in maniera articolata in undici punti la necessità voluta da dio di una monarchia universale nel secondo libro dante dimostra che questo compito di stabilire una monarchia universale su l'europa sul mondo allora conosciuto era stata affidata da dio per sua scelta provvidenziale al popolo romano nel terzo libro dante illustra diciamo il fulcro di quella che è la sua teoria il punto nodale di quella che è la sua teoria cioè quali secondo lui devono essere i rapporti fra impero e papato quindi dopo aver visto la s di struttura andiamo avanti e vediamo la r di rapporti i rapporti fra chiesa impero preciso meglio qualche cosa che avevo già accennato precedentemente all'epoca esistevano due correnti di pensiero fra coloro che studiavano e cercavano di dare fondamento teorico fondamento filosofico al potere vuoi del papa vuoi del papato vuoi dell'impero due correnti di pensiero antitetiche che erano queste teorie teocratiche ricordatevi cosa significa teocrazia potere che deriva da dio il potere politico si sottomette in qualche modo al potere religioso teos in greco significa dio kratos è potere teocrazia è diciamo uno stato religioso come possono essere oggi per esempio stati del tipo lo stato della chiesa di sicuro perché comunque il papa è capo spirituale e al tempo stesso il capo politico dello stato della chiesa ma anche per esempio l'iran che è governato secondo le leggi che derivano dal dal corano no comunque questi sono accenni alla modernità che c'entrano il giusto con quello che stavamo stavamo dicendo torniamo alle correnti di pensiero medievale sono teorie teocratiche il papa detiene sia il potere spirituale sia quello temporale ma esercita quest'ultimo tramite l'imperatore a lui subordinato quindi il papa ha il potere spirituale religioso che gli deriva da dio ma anche il potere temporale gli deve essere in qualche modo soggetto il papa esercita il potere temporale il potere diciamo così di esercitare di produrre di applicare le leggi di controllare i cittadini sudditi eccetera attraverso l'imperatore che però gli deve essere soggetto in questo senso il papa è come il sole e l'imperatore è come la luna che prende la sua luce dal sole e ne è ad essa in qualche modo ad essa in qualche modo subordinato e poi ci sono le teorie regaliste che invece sostengono l'indipendenza e la supremazia dell'imperatore quindi l'imperatore esercita il potere temporale e in qualche misura il potere temporale indipendente deriva in ogni caso da dio però indipendente e in certa misura persino superiore a quello del papa quindi teorie regaliste che hanno come oggetto questo però attenzione in europa in quel periodo si stavano affacciando altre situazioni politiche per esempio stava acquistando sempre più autonomia sempre più importanza sempre più potere sempre più significato la monarchia francese va bene quindi esistono anche delle teorie regalistiche di tipo filo francese che sostengono l'indipendenza del potere temporale da quello religioso ma in una direzione specifica anti imperiale e viceversa nazionale quindi teorie regalistiche filo francese che sostengono l'indipendenza del potere temporale da quello religioso però diciamo così tutto questo discorso si applica non all'imperatore di cui non si conosceva più l'autorità universale ma a casomai arre di francia e poi diciamo così la francia nel trecento avrà nei primi anni avrà un ruolo importante perché tra l'altro diciamo sarà filippo il bello re della francia l'artefice dell'inizio di quella che viene chiamata cattività vignonese perché effettivamente il papa diciamo così sarà in qualche modo sottomesso alle esigenze al potere del re francese e addirittura la sede del papato per lunghi anni sarà trasferita da roma ad avignone in francia d'accordo questo poi sarà un ragionamento che riprenderemo parlando della vita del del petrarca dunque interrompo qui questo questo video nel prossimo video vi illustrerò brevemente altre caratteristiche importanti del de monarchia in latino la monarchia in italiano non solo caratteristiche importanti ma cercherò anche di sottolineare come questo libro che può sembrare tanto lontano da noi perché legato a vicende storiche tanto tanto remote rispetto alle nostre però presenti invece degli elementi di attualità e di interesse insomma ancora una volta dante ci parla non bene ci parla dal passato e parla anche a noi uomini del ventunesimo ventunesimo secolo chiudo il video con la mia faccia che vi apparirà qui quindi ragazzi vi saluto al prossimo video al alla prossima alla conclusione di questa lezione introduttiva a dopo vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto